Gentili telespettatori, buona giornata. Il presidente del senato, Ignazio Larussa, ha fatto entrare nel 2018 le telecamere a casa sua. Nella sua sala mostra il busto del dittatore anni venti, tutto nero, in posizione maschia, tutto nero, che calpesta una bandiera del comunismo. Sono quei gadget, quelle statue che vendono a predappio, città natale del dittatore, dove c'erano, ci sono, non lo so, ci sono più, forse stanno un po' anche sparendo, perché ormai il tempo che passa era pieno di questi negozi che vendono statue, spille, cravate, magliette, tutto quello che voi potete immaginare, possiate immaginare sul dittatore, su altre cose. Quindi a casa sua c'è sta statua, messa lì in bella vista, tra le fotografie di famiglia c'è la statua del dittatore. Dall'altra parte della sala, su una parete c'è, come si dice, quei gagliardetti di legno con sopra di metallo, dove c'è il profilo del dittatore con mascellone, elmetto, elmetto con la cosa lì, con qualche frase di quelle a effetto. Vabbè, insomma, lui intanto, allora, nel 2018 la russa non aveva 18 anni, aveva una certa età, è un uomo adulto, un politico che è da tanto nell'arco istituzionale, mi fai entrare le telecamere, ma come fai a far entrare le telecamere sapendo che lì c'hai le reliquie, non sono né i reliqui né i cimeli, quelle sono robe moderne, di, come si chiamano, gadget nostalgici del tempo, ecco, lui dice, sono sempre dipinto come quello che ha la statua del dittatore, ma se mi avessero lasciato quella di Mao avrei fatto lo stesso? Avrei fatto lo stesso, è un'affermazione, cioè, quella statua gliela avrebbe data il padre, era del padre, va bene. Se gli avesse lasciato la statua di Mao, dice, io avrei messo lì la statua di Mao. Immaginatevi che mio papà mi regala la statua di Saddam Hussein, scusate, io la posso conservare in un armadio, ma non la espongo in bella vista come pezzo principale della mia sala, la statua di Saddam Hussein, o di Stalin, o del dittatore. Insomma, quelle robe lì le puoi fare quando hai 15 anni, 18 anni, sapete che quando uno è giovane è un po' estremista di sinistra o un po' estremista di destra, tutti quando sono giovani sono un po' alternativi. Quando uno è giovane, giovane, ancora non ha capito la gravità delle cose, ancora non ha capito bene cos'è successo nel mondo, nella storia, ancora non riesce bene a inquadrare i fatti, che cos'è la vita, che andrà a lavorare, ancora uno quando ha 18 anni vive ancora nella bambagia, e allora prende come miti dei riferimenti di persone che reputa forti. Di solito quando uno prende come riferimento dei dittatori che o di destra o di sinistra è di solito perché ha avuto nella vita la mancanza di figure paterne, di figure forti, allora va a ricercare in questi personaggi del passato qualcuno che... Ecco, questa è la psicologia basica, questo ve lo può dire qualunque psicologo. però un uomo adulto, adulto, politico, che fa entrare le telecamere, questa è la statua, guarda mio papà, i giornalisti non aspettavano altro, non aspettavano altro. E lui dice, la russa, scusatemi se parlo di me, sono sempre dipinto come quello che ha i busti, è vero, ce l'ho, me l'ha lasciato mio padre, non capisco perché dovrei buttarlo. La russa, nessuno ha detto di buttare una statua che ti ha regalato tuo papà. Il problema è che la metti in bella vista nella tua sala e fai entrare pure le telecamere. Non la butterò mai. La russa, nessuno ti ha detto di buttarla. Così come non butterei il busto di Mao se mi avessero lasciato un'opera d'arte sua. Beh, insomma, quel busto lì non è propriamente un'opera d'arte, è una roba di... Sarà un gadget magari non moderno, ma è un gadget, credo, degli anni 50-60. Non credo che quella che ha la russa in casa sia un pezzo storico proveniente dal ventennio. Credo che è una riproduzione da commerciale degli anni successivi, perché io la sto guardando in questo momento, è tutta dipinta di nero, completamente faccia, tutto nero. Non credo che ai tempi del dittatore avessero fatto una statua tutta dipinta di nero. L'avrebbero o colorata o fatta di marmo, ma non una ceramica laccata di nero, neanche molto somigliante. Quindi non è un pezzo storico. Non è un pezzo storico. Ormai è storia, non è un pezzo storico. E poi dice, scusatemi ancora per questa parentesi personale che volevo assolutamente esternare. Quindi è lui che a Palazzo Giustiniani, per il ricordo di Pinuccio Tatarella, tira fuori la storia dei busti. Ormai tutti in televisione, ogni volta che si parla di Fratelli d'Italia, tirano fuori quello che ha a casa i busti. Ovviamente è un'immagine emblematica. Emblematica. Partito Conservatore che non vuole avere niente a che fare con l'ideologia di un regime. Due cose completamente differenti. E poi si trova la russa con la statua, quell'altro a Milano che fa i saluti romani, il fratello di questo che fa i saluti romani, e poi si trova quell'altro con la maglietta, col nome di una band di estremissima destra che inneggiava la liberazione di un criminale di guerra tedesco. Diciamo che la Meloni dice che questo è un partito conservatore che non ha niente a che fare con quelle cose lì, però quelli che sono al suo interno hanno a che fare con quelle cose lì, sono dei veri e propri nostalgici che a me non fanno né caldo né freddo, perché sinceramente sono le persone più innocue del mondo, questi nostalgici, perché non fanno male a nessuno, loro nella loro mente hanno il dittatore, saluto a quello, insomma è una sorta di infantilismo che è rimasto anche quando sono grandi, però dopo una certa età continuare con questa roba, io la lascerei ai quindicenni se proprio vogliamo lasciarla, ma a 50, 60 anni, 70 anni ancora con queste robe, insomma è anacronistico, anche perché ormai sono cose in bianco e nero del passato, di un passato che ormai diventa veramente remoto, basta parlare di queste robe, io direi a questi esponenti che fanno saluti romani, che hanno le statue, dove si mettono le magliette delle band di ultradestra, l'ho visto ieri, la foto di Del Mastro con una maglietta, con il nome di una band di estrema destra tedesca, che inneggia a Pribke, che inneggia a Pribke, liberate salviamo il capitano, e questo qua c'è una foto su internet, cercate Del Mastro Maglietta, cercate Del Mastro Maglietta, e vi viene fuori la foto, mentre lui sta accarezzando Rottweiler, che ha pancio all'aria, e lui con la maglietta di una band, che inneggiava la liberazione di Eric Pribke, uno di quelli che è il criminale delle fosse erdeatine, non so io, eh? Eh? No, non ci sono nostalgici, ma stiamo scherzando, ma neanche a pensarlo, peggio, arrivederci a tutti.